Ciao, sabato 13 febbraio sarò al Bloc 33, Testaloniki Grecia, questa volta non perdiamo ieri, anche se non sta colpa mia, è andata colpa della Turkish Airlines che parli in ritardo, ne recuperiamo la data che non ho potuto fare a dicembre, vi aspetto a tutti, l'ingresso è gratuito per poter recuperare l'ingresso pagato a dicembre e nulla, vi aspetto.